Nuovo furto all'interno di una scuola. Questa volta nel Mirino è finito l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Camillo Del Rico di Palazzo San Gervasio, che ospita l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e Liceo Linguistico. I lati sono entrati attraverso la palestra forzando una porta e hanno prelevato il danaro contenuto nelle macchinette che erogano bevande e merendine. Il bottino è di poche decine di euro. Hanno anche tentato di rubare un videoproiettore dalla sala professore, abbandolandolo poi a terra. Sono riusciti invece a portare via un pc portatile. Si tratta del quarto furto compiuto in appena un anno con le medesime modalità. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione e i militari della compagnia di Venosa immediatamente accorsi sul posto per i dovuti accertamenti. Gli alunni, circa 300, sono entrati con un paio di ore di ritardo nelle aule attendendo nell'auditorium che gli investigatori completassero il loro lavoro.